salve amici salve a tutti dunque questo è un promo per un hangout per un video live che farò prossimamente vi dico anche la data con calma passa la volta perché devo spiegarvi un po di cose avrò un ospite come si suol dire in questi casi un ospite d'eccezione si chiama franco russo ed è un ingegnere del suono mi viene da ridere perché lui non piace essere chiamato così quando uno dice ingegnere immagina una persona con giacca e cravatta così che fa i progetti è una persona molto più molto più alla mano molto più interessante di un ingegnere accademico comunque c'ho in mano della roba che c'è una cuffia una cuffietta e dato che questo è un promo interattivo quindi dovete collaborare se volete capire di che cosa parleremo allora vi invito a prendervi una cuffia oppure anche le cuffiette no quello dei dei ipod insomma e di indossarle d'accordo vi aspetto no fatelo veramente perché se no non riuscirete a capire di che cosa si parlerà poi naturalmente ci saranno divagazioni sul tema quindi ci saranno anche tanti altri argomenti interessanti anzi vi invito già da adesso a lasciare sotto questo promo domande curiosità insomma quello che mi passa per la mente in maniera questo personaggio eccezionale che avremmo ospite pensate che conosce pure franco battiato mica cosa da poco è quindi stiamo parlando di una cosa veramente interessante lui stavo dicendo indossate la cuffia mi raccomando destra sull'orecchio destro sinistra sull'orecchio sinistro perché sennò non funziona ma perché e adesso ve lo dico parleremo delle registrazioni binaurali binaurali quindi avrete la possibilità di sentire il suono tridimensionale anzi franco fa anche delle registrazioni esadimensionali ma parleremo anche di questo io questo è un promo per suscitare un po di curiosità dai quindi mettetevi queste cuffiette mettete in pausa questo video mettete le cuffiette che vi aspetto così potrete ascoltare qualche cosa di che almeno quando l'ho sentita io è veramente incredibile perché sentirete i suoni che vivevi girano intorno vengono di qua vengono di là voi state proprio al centro della scena sonora ok sinistra 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 destra destra io 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.